Una bravata si è scaturita in una tragedia, in una tragedia che poi hanno voluto coprire dalla mattina stessa fino ad oggi. Per l'amica di Martina Rossi, la giovane precipitata dal sesto piano di un hotel delle Baleari il 13 agosto 2011, non ci sono dubbi, non può essersi trattato di un suicidio. Questa mattina d'Arezzo una nuova udienza del processo per la morte della studentessa d'Imperia sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale, chiamata a deporre le amiche del cuore della studentessa Ligure. Qual è l'ultima volta che l'hai vista e come l'hai vista? Pochi giorni prima della sua partenza, a Genova, a Principa alla stazione, l'ho vista molto felice, molto gasata per la partenza imminente, soddisfatta dell'aver iniziato a coronare il sogno della sua vita, quindi l'Accademia delle Belle Arti di Milano, perché era un'artista. Ed è stata proprio Camilla in aula a ridimensionare due tentativi autolesionistici emersi nel corso delle indagini. Credo proprio che i diretti interessati me ne avrebbero parlato, cosa che non è mai avvenuta. Chiamato a testimoniare anche il dottor Pietro Civiberti, lo psichiatra che ebbe in cura Martina nel 2009, nell'ultimo anno di liceo. La studentessa all'epoca soffriva gli attacchi di panico e crisi d'ansia che il medico curò anche con psicofarmaci. Anche questo è diventato una colpa, anche questo è diventato un senso, diciamo così, di determinare che cosa, per aiutare a spiegare quello che era successo con la camera, che non è successo così. Una crisi legata all'imminente esame di maturità e al dolore per la fine di una relazione con un ragazzo, disturbi risolti secondo il medico già nel 2010. Per fortuna era passato, eppure ci ha lasciato la pelle.